Ed eccoci ragazzi a affrontare due liriche più significative a riguardo di Quasimodo. La prima di cui vi parlo è dal titolo Ed è subito sera. La lirica fa parte della raccolta acque e terre. Il metro si tratta di versi liberi, il primo è di dodici sillabe, seguito da un secondo verso, un novenario, il terzo da un settenario. Quindi dodici sillabe, nove sillabe, sette sillabe. Tre versi che trasmettono un'intensità enorme. Ognuno sta solo sul cuore della terra, trafitto da un raggio di sole, ed è subito sera. È una lirica che nella sua essenziale brevità, bene esemplificata, ed esemplificata, e comunque trasferisce, trasmette delle intenzioni. Le intenzioni e i risultati della ricerca. Quale ricerca? Della ricerca del poeta. È una concisione estrema dell'espressione. Concisione significa qualcosa portato alle strette. Il significato profondo della parola che entra in rapporti di intensa collaborazione con la terra, con il sole, con la natura. Ed è un linguaggio puramente analogico, difficile ad un primo impatto da capire, le connessioni logiche. La problematica interiore ed esistenziale del poeta è questa, quella... Queste sono le problematiche interiore ed esistenziale, che il poeta si porta dentro, che il poeta trasmette e trasferisce poi al testo, di cui il testo si fa portatore. Il primo verso esprime la solitudine dell'uomo, che pure si trova sul cuore della terra, nel cuore e quindi al centro delle cose. Il termine indica il più, il pulsare della vita, da dove scaturiscono i sentimenti, le emozioni, gli affetti. Da questi elementi sbrigiona una contraddizione che si ripercuote su quel trafitto, il cui significato racchiude una profonda, chiamiamo ambivalenza, il raggio di sole, che colpisce l'uomo ed è simbolo di luce, di calore, e quindi dà vita. Quindi, oltre a portare con sé un'idea di infinito, c'è l'idea della creazione, come una sorta di freccia che porta a morte. È un'impressione destinata a prevalere, no? Dopo la lettura dell'ultimo verso, che poi è separato da due punti, ma unito alla congiunzione ed, che registra all'improvviso, subito, il sopraggiungere della sera, ossia della fine. È un discorso poetico che condensa dunque i motivi di una solitudine, di una precarietà della vita e di uno sfiorire delle illusioni, e poi ovviamente della morte come il segno dell'esistenza, il segno ultimo dell'esistenza e del rapporto fra l'uomo e le cose. Non c'è naturalismo, c'è un dilatarsi dello spazio, un precipitare nell'attimo, tema ungarettiano, che abbiamo visto in mattina, ma c'è un tentativo di cogliere un frammento di verità attraverso uno strumento che si chiama illuminazione. Quasimodo infine sostituisce una sintetica riflessione sulla condizione umana in maniera molto poetica, in maniera molto filosofica. Quindi attenzione a quel concetto di trafitto e a quel concetto di da un raggio di sole, un raggio di sole creatrice, un raggio di sole creatore che dà vita, ma quel termine trafitto, quella forma di participio verbale che in fondo è negativo. Eppure il negativo non lo è. Attenzione alla parola cuore e attenzione a quel ognuno sta solo, una solitudine dunque che è come dire ognuno di noi è solo, ma tutti lo siamo e quindi questo ci rende ancora più vicini all'altro. Buono studio. Grazie. Grazie. Grazie.